e però scende vedi bravo bravo andiamo andiamo vai io d'entro di fare la deviazione a destra ce la fa a farla? ma va no di lì non vai su a destra no non riesci no ma poi è nuova la facciamo a scendere ma salire è così adesso non riesci bravo non hai agio da prenderla stai qua fai qualche cagata vado avanti io stai qua devo fare qualche cagata dai ti riprendo da su simo non continuare a gasare come il due tempi gli dai e poi no più morbido perché è così attaccare e staccare attaccare e staccare ti perde trazione prova a farlo più morbido e più continuo poi ti rendi conti cosa fa con la moto qua ah forza trota se fai così è usagerato a bollare non 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 ma non 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 È lui dietro.